Salve a tutti, questa sera voglio fare un video brevissimo sull'evento che ha interessato gli ultimi due giorni, cioè il fatto che sono state condannate le maestre che avevano maltrattato i bambini a Pinerolo. La scusante di questo fatto, cioè della violenza delle maestre che dovrebbero essere delle persone che tutelano il benessere in maniera quasi materna dei bambini che sono loro affidate, mi suggerisce però un tema più vasto che è quella della violenza umana nei confronti tendenzialmente degli esseri umani con altri esseri umani ma anche verso animali, verso altre creature. Prendo uno spunto suggerendo tre testi che secondo me sono abbastanza interessanti, ci ne sarebbe un quarto che non ho sotto mano. I tre testi che suggerisco sono Anatomia della distruttività umana di Fromm, che analizza da un punto di vista psicoanalitico e psicologico la distruttività dell'uomo sia nei confronti degli oggetti, tant'è che in copertina di questa ripetizione qui c'è l'esempio di un'opera d'arte distrutta da un vangolo. Un altro libro interessante secondo me, anche se abbastanza diverso come tematiche, no, come tematiche forse abbastanza simili ma come argomento di cui si parla non così simile perché è un testo storico che prende in esame la vicenda dei Khmer Rossi in Cambogia che è Pol Pot, storia di un ikbu, di Philip Short. E per finire invece un testo più concentrato appunto sul discorso delle scuole che è bullismo a scuola di uno svedese perché i primi studi sul bullismo vennero fatti appunto in Scandinavia che è Dan Holveus. Questi tre testi sono abbastanza interessanti come lo è sicuramente un testo fondamentale sulla violenza, sull'aggressività che è il cosiddetto male di Lorenz. Tutti questi quattro testi di cui parlo e molti altri prendono in esame quella che è la violenza umana perché sicuramente è un argomento importantissimo il fatto che esista la violenza nell'essere umano e questa violenza venga sviluppata bene o male nelle storiche in varie società, in vari ambienti, dalla cultura, dalla famiglia, dalla società appunto, dal lavoro, dalla scuola. Brevemente dirò quello che penso io sintetizzando un po' anche questi testi che poi alla fine non so fino a che punto analizzano questo, forse il problema è analizzato molto meglio nel cosiddetto male di Lorenz. E cioè che la violenza è fondamentalmente una potenzialità dell'essere umano e di altri animali che serve in alcune situazioni. La violenza, l'aggressività meglio, di cui la violenza è un'espressione, è un meccanismo che serve a difendere l'individuo, l'animale, l'essere umano in situazioni di stress o di attacco. Cioè in condizioni in cui c'è bisogno di una certa aggressività per fronteggiare tendenzialmente un altro animale, ma anche una situazione difficile, l'aggressività è un meccanismo che consente di sopravvivere meglio. Ovviamente questo ha senso appunto quando c'è una situazione di attacco. Quando questa non c'è, molte volte sembra che sia così, la violenza sembra qualcosa di tutto ingiustificato, inutile, dannoso, perché poi la violenza quando viene espretata porta sicuramente in situazioni di sofferenza, per esempio nel discorso della violenza a scuola è evidente che sia i bulli, paradossalmente, ma sicuramente le vittime, si trovano ad avere la minore capacità di poter studiare, di poter avere una vita serena, eccetera, con una volta dei risvolti drammatici, perché molte vittime del bullismo si suicidano e al tempo stesso però lo stesso bullo non ha una vita serena, non è tra virgolette, diciamo per così dire, felice, perché quasi sempre il bullo è il risultato di una situazione a sua volta stressante a caso in altre situazioni. Questo cosa ci dovrebbe dire, insomma, tendenzialmente, che la violenza comunque è un atteggiamento che scatta quando c'è una situazione di stress e anche quando sembra che non ci sia. Il bullo che fa del male alla sua vittima alla fine non fa che sfogare uno stress che però ha accumulato probabilmente da qualche altra parte, così come la violenza in ufficio, la violenza in altri ambienti è uno sfogare, un'aggressività che però da qualche parte deve essere stata caricata, perché un conto è difendersi da un collega o da altre persone che ci fanno del male e lì, non dico che la violenza sia giustificata, però ha una sua logica. Quello che forse dà più fastidio, forse può essere anche più incomprensibile, è la violenza che sembra gratuita, in realtà secondo me la violenza non è mai gratuita, l'aggressività scatta quando comunque è stata caricata. Il problema è che a volte è caricata da situazioni pergresse, per cui magari un bambino viene trattato male a casa o ha situazioni di forte stress, e queste situazioni di forte stress le sfoga a scuola, magari sfogandosi su un bambino o un'altra persona che è più debole di lui. Così come il capo ufficio che magari è maltrattato da un suo superiore sfoga questa aggressività magari maltrattando dove può, quando ha il potere, qualcuno che gli è sottoposto. Ora, allora, questa cosa voglio dire è che la violenza tendenzialmente per svilupparsi ha bisogno di due cose. Uno, un elemento sociale o sociologico che la carica, che dà una situazione di stress all'individuo, per cui questo individuo è costretto in una situazione che non gli piace. Due, deve essere su una situazione di potere che permette all'individuo di scaricarla. Il sottoposto difficilmente userà violenza nei confronti del superiore, per quanto anche quello può succedere, basta vedere le scuole americane in cui magari ci sono gli ex studenti che arrivano con le pistole e sparano tutti quelli che gli facevano del male. Però lì è una cosa definitiva, è un modo a un certo punto quando non si può più trattenere ci si sfoga. Quando uno però ha ancora il controllo tende a non sfogare l'aggressività verso persone che ci sono superiori. Sfoga però tendenzialmente verso il filietto inferiore oppure verso persone che sono più deboli, come per esempio il bullo. Il bullo individua una vittima, ha bisogno di sfogare questa aggressività, individua una persona che lui reputa debole. Se questa persona non reagisce, lui sfogherà su questa persona poi la sua aggressività. Questo ovviamente non è un giustificante, un intentativo di capire come funziona l'aggressività per cercare di gestirla. Premesso quello che ho detto, cioè che l'aggressività è ineliminabile dall'essere umano, perché è una componente del carattere umano. E purtroppo anche il fatto che ci sia questa tendenza a essere un po' neurotizzati o comunque essere stressati, perché tutti quanti la mattina, come ci dice giustamente Freud nel disagio della civiltà, tutti quanti la mattina ci dobbiamo svegliare, dobbiamo farci carico di quelli che sono i doveri sociali. Questo è comunque già di per sé stesso stressante. Ovviamente, e quindi già questo predispone secondo me un po' alla violenza, perché costretto l'essere umano a fare quello che non vorrebbe, tendenzialmente poi carica una certa aggressività, secondo me. Questa aggressività però, che è più o meno limitata, viene aumentata ancora di più quando ci sono situazioni di violenza, tra virgolette, interpersonale, che poi a sua volta si deve sfogare su altri, si deve sfogare su altri e quindi si crea una specie di catena. Per cui, non dico che sia il caso degli insegnanti di Pinerolo, perché non conosco bene le carte, non so qual è la loro storia personale e credo farebbe fatica anche uno psicologo. Diciamo che sono propenso a credere che quando una persona, come un insegnante, che si trova di fronte a un bambino addirittura, che al massimo ti può stressare, ma non ti può fare del male e quindi verso questo individuo è difficile concepire l'aggressività. Per quanto ci sono i genitori che picchiano i figli, ci sono insegnanti che picchiano i figli e ci sono altri bambini che picchiano altri bambini, tendenzialmente però è strano come atteggiamento, insomma, secondo me. La giustificazione secondo me nasce dal fatto che c'è una stress di base che porta poi a sfogarsi. Ovviamente un insegnante essendo fisicamente più forte di un alunno, al di là di principi etici, anche di ideologia professionale, eccetera, ha la possibilità di fare del male a un bambino. Lo fa, secondo me, quando c'è una motivazione dietro che può essere questa che dico, cioè ha bisogno di sfogarsi e si sfoga con il bambino. Il discorso ovviamente è sbagliato perché anche una persona che è molto stressata dovrebbe essere intelligente. Nel momento in cui si rende conto che fa fatica a fare il suo lavoro, avendo le risorse, questo è il scopo dello Stato, ma avendo le risorse dovrebbe andare in qualche centro che gli permette di sfogare lo stress, di sfogare la rabbia che magari ha per varie motivazioni perché magari il marito l'ha trattato male, piuttosto che magari il capo ufficio o un superiore l'ha trattato male e sfogare questa rabbia o con l'iettivo interessato o comunque in altro modo, in maniera costruttiva, non invece con un bambino che non ha colpa e invece se vittima di violenza farà ancora più fatica a bloccare questo ciclo perché un bambino fa più fatica a capire questo meccanismo, mentre un adulto si presume che dovrebbe riuscire a gestirlo e quindi questo è più pericoloso perché crea appunto un ciclo continuo. Queste sono le mie riflessioni sulla violenza, cioè secondo me nasce per queste motivazioni qui, ci sarà sempre il rischio che ci sia, una maggiore comprensione però di questi meccanismi può aiutare e evitare la violenza nella nostra società. Ringrazio per avermi seguito, spero di non essere stato troppo lungo, spero ci saranno molti commenti perché questo è un argomento che mi sta abbastanza a cuore. Grazie a tutti e buonasera.